Allora per tutti voi, tranne per Tommaso, è la prima volta con Paolo Virzi e volevo sapere innanzitutto che effetto fa andare su un set e trovarsi lì, il Paolo nazionale. Partiamo da Vinicio. Ma intanto è stato straordinario essere scelti, parlarci telefonicamente, sentire che un cotanto regista e artista aveva voglia di lavorare con te e quindi è stato tutto meraviglioso, non so come dire, ma fa parte del modo di lavorare di Paolo che poi riversa tutto sul film, insomma c'è un'umanità e una sartorialità mi verrebbe da dire nel costruire il film, nello scegliere le persone prima e gli attori dopo a cui affida i ruoli che ha nel suo immaginario, un privilegio e un onore. Per me è stato un immenso piacere e personalmente ho sempre voluto lavorare con lui quindi sono particolarmente grata a Paolo perché riesce a costruire dei personaggi tridimensionali e non lasciare nulla al caso specialmente sul set ti senti accompagnato da attore con Paolo segue tutto l'iter del personaggio e ti lascia entrare nei ruoli in maniera molto naturale e molto realistica. Per me è stata un'esperienza, anche per me è stato un onore essere scelto da Paolo Virzi e osservare Paolo Virzi sul set anche quando dirige gli altri è veramente qualcosa che ti nutre tantissimo, cioè come attore ma anche come persona io penso che lui abbia un'energia che vada oltre a quello che c'è anche al di fuori dal set lui ricrea una condizione penso che sia veramente fruttifera per un attore quindi io sono felicissimo di aver condiviso questo percorso e di aver trovato anche un amico Tommaso per te che è la seconda invece? Beh è sempre anche un po' come la prima da un certo punto di vista perché stavolta il ruolo era diverso e ho notato quanto è anche sapere quando non dirigere un attore, fare il regista, cioè Paolo ti dirige, ti dirige completamente ma come ha detto Gabriel lo vedevo anche sugli altri, sulla mia partner in questo caso Rena Lieti quando la dirigeva, quando non la dirigeva, come un direttore d'orchestra ma presente, non mi ricordo quanti attori siamo, siamo credo 15, lui è il sedicesimo attore esattamente. Il film è corale, a volte a me ricordo un po' America Oggi di Altman per fare un pargone alto quando è stato difficile però ritagliare il vostro spazio? E poi quando uno c'è la parte grande, no? C'è la... invece così? Ma nel mio caso ti affidi, nel senso che... cioè ti rendi conto che sei una parte di un ingranaggio, di una visione, di un affresco e ti affidi completamente alla direzione di Paolo è già meraviglioso essere in questo affresco poi la maniera, le quantità, i dosaggi immagino sia stato anche difficilissimo in fase di montaggio per lui trovare la quadra, no? su alcune cose quindi fa parte tutto del gioco ed essere nell'immaginario di un regista così grande è già un privilegio, è un onore come dicevo prima come attore ti affidi e ti fidi di quello che ti dice lui e della maniera in cui ti userà insomma Io credo che ogni personaggio sia protagonista della storia e ognuno di noi ha dato un grande contributo alla realizzazione del film e come ho detto prima questi personaggi sono tutti tridimensionali e credo che abbiano un arco ben preciso e funzionale all'interno della storia per quello che voleva raccontare il regista e poi Paolo è stato bravissimo a dirigerci come un direttore d'orchestra e a dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio la propria personalità e il proprio, no? prendere parte al film Paolo non ti molla un secondo cioè questa cosa lo percepisci anche se sta a un chilometro da te e questa cosa io penso che ti senti protagonista di una questione fondamentalmente poi il lavoro lo fai da dentro e allo stesso tempo Paolo scambia con te hai la possibilità di far crescere sempre di più quello che sta accadendo ed è una grande cosa anche io non mi sento di aver fatto io questo tizio ma di averlo fatto insieme di averlo fatto insieme a Paolo ovviamente anche insieme a Elena nell'interazione ecco non penso mai io faccio il personaggio Paolo per fortuna è uno che dirige sono tanti registi che hanno fatto registi per 30 anni senza aver mai diretto una volta un attore e invece Paolo li dirige tutti tutti grazie mille grazie a te Grazie.